Ma che presenta? Presento io. Ma insomma, il film mutuo è morto o non è morto? Se è morto è inutile continuare con le didascalie. Allora preferisco 47, morto che parla. Alla realizzazione di questo film ha contribuito con entusiasmo e fervore l'amico simpatico Alessandro Blasetti. Grazie. Inoltre Carlo Montuori, operatore, il maestro Pietro Sassuolo, Giovanni Paris, tecnico dei suoni, Mario Pompei, scenografo. Ed ora passiamo alle tre grazie. No, pardon. Di grazie mi abbia...